Secondo quanto riferito, il rapporto del principe Ferri con la famiglia reale, è preoccupante e un commentatore reale, non crede che una riconciliazione avverrà presto? Il principe Ferri potrebbe non riconciliarsi mai con i reali a causa del livello di sfiducia tra i Sussex e la famiglia reale, ha affermato un commentatore. Si ritiene che il rapporto del duca di Sussex con la famiglia reale abbia raggiunto un punto di rottura. In particolare dopo che ha fatto una serie di affermazioni contro personaggi del calibro di re Carlo, principe William e principessa Kate nel suo libro di memorie, Spare, Ferri, è stato visto nella stessa stanza della famiglia reale solo una volta dal settembre 2022, quando fece una figura distante, mentre assisteva all'incoronazione del re Carlo III all'abbazia di Westminster. Il principe tornerà nel Regno Unito tra poco meno di due settimane per partecipare a un evento di beneficenza, che cade anche alla vigilia del primo anniversario della morte della sua defunta nonna, la regina Elisabetta II. Ciò ha portato alla speculazione che potrebbe incontrare il re e William nel tentativo di sanare la presunta frattura, ma un esperto reale si è chiesto se avrà mai luogo una riconciliazione. L'autore reale ha anche dubitato che Ferri e suo fratello maggiore William, possano mai riconciliarsi in seguito alle conseguenze delle affermazioni fatte nelle memorie del duca. Ha aggiunto, non credo che i due fratelli si riconcilieranno mai o si fideranno mai più l'uno dell'altro. È profondamente triste, se non troveranno il tempo per incontrarsi, che futuro c'è? Grazie Grazie Grazie